Siamo in attesa qui al passaggio del giro d'Italia e noi della Bedefense Italia Tortoreto ci siamo organizzati perché comunque questa azienda non ce la devono toccare nessuno. Siamo in stato di agitazione per la loro decisione di delocalizzare questa azienda. Passo la parola. Siamo in lotta dal 29 luglio. Purtroppo è uno scempio che stiamo subendo per via di una semplice manovra finanziaria. L'implicato numero uno è Carlo De Benedetti della Carlyle. La nostra azienda ha lavorato nel periodo del Covid ottenendo risultati superiori anche all'anno precedente e purtroppo per un non so che stiamo subendo un taglio della nostra azienda. Sì, più che un taglio qua ci vogliono proprio chiudere. L'azienda ha sempre prodotto utili in questi anni, era il fiore e l'occhiello del gruppo e per maggiori profitto si preferirebbe portare la produzione in Polonia ma noi questo non lo accettiamo e lottiamo fino alla fine per conservare il nostro posto di lavoro.